Luci sulla città è offerto da Spada Immobiliare, Compravendite, Affitti e Permute. Sita a Palermo in via Sant'Oliva 16, telefono 091 612 72 22. Impresa edile Geometra Arnaldo Giambertone, dal 1984. Qualità e cortesia al vostro servizio. Costruzioni e ristrutturazioni edili, manutenzione stabili condominali, rifacimento prospetti, bagni e cucine. L'impresa Giambertone vanta una notevole esperienza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili, avvalendosi di personale altamente specializzato. Prezzi competitivi con preventivi e consulenze gratuite per l'ottenimento del super bonus 110%. Impresa edile Geometra Arnaldo Giambertone, ci trovi a Palermo in via Saline 5, telefono 091 50 75 369. Impresa Giambertone, la scelta giusta per ristrutturare casa. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Luci sulla città. Oggi ospite studio Giulia Di Carlo e Ossas Begnon. Tratteremo di un argomento particolarmente delicato, tratteremo di tratta. A proposito di questo ho un progetto mano nella mano sviluppato dalla CIA. Cominciamo a parlare un attimino di questo progetto. Buonasera Massimo, grazie. Il progetto mano nella mano nasce da un'analisi dei bisogni fatti a Palermo insieme alle donne di Benin City e all'associazione BUC e all'associazione SEND che sono i nostri partner di progetto. Il CIA ha voluto scommettere appunto su questo nuovo target di beneficiarie, le donne migranti vittime di tratta per portare avanti delle attività che promuovano dei percorsi di empowerment e di creazione di reti all'interno della nostra società. Ecco, mano nella mano è già un nome che spiega cosa serve per uscire da un fenomeno criminale così devastante perché serve qualcuno che accompagni fuori dalla tratta, dallo sfruttamento alla prostituzione, queste donne davvero isolate. Sì, infatti l'analisi che abbiamo fatto ci ha portato a capire che c'era veramente bisogno di prendersi per mano per creare dei percorsi alternativi per le donne vittime di tratta, ma non solo, per donne che molto spesso si ritrovano ad essere sole, a non avere delle reti solide e quindi a ritrovarsi a dover affrontare la nostra società con le mille difficoltà che questo comporta, soprattutto non parlando la lingua e non conoscendo i servizi. Infatti, grazie alle donne di Benin City abbiamo iniziato questo percorso e abbiamo capito che era necessario farlo in maniera congiunta. Ecco, la Presidente di Donne di Benin City è tra l'altro un'associazione presente sul territorio dal 2015 che ha aiutato tante donne a uscire dalla tratta o quantomeno a essere accompagnate in un percorso di vita migliore e ancora oggi si occupa di dare assistenza attraverso aiuti alimentari a migranti in difficoltà economica. Come ha preso la nascita di questa iniziativa? Un'iniziativa che sembra davvero utile? L'iniziativa del progetto delle mani delle mani è proprio per aiutare queste donne perché noi abbiamo queste donne in difficoltà che non sanno indicare dove devi andare, indicare come si gestisce i loro bambini, eccetera. Alcune volte le donne sono con le pediatra dei bambini, chiama me anche quando io sono impegnati per spiegare, per aiutarsi loro, per spiegare le condizioni dei loro bambini. Secondo me è molto importante che le donne, perché come le donne nostre, sono le donne che sono scondate troppo, che rimane dietro, non vogliono uscire, non vogliono circolare con altre donne. Perché già c'è grande difficoltà sicuramente e ci vuole coraggio a denunciare. E poi un ulteriore ostacolo può essere l'avere a che fare, il confrontarsi con la burocrazia. Secondo me anche le donne, quasi tutte le donne ora sono liberate, però la cosa importante è che loro sono liberate, dove devi andare, cosa posso fare, come devi iniziare la loro vita, proprio i bambini che sono nati qua. Secondo me, come io dico sempre, quanto noi mamme proprio non hanno vita, dove è la vita dei nostri bambini? I nostri bambini hanno bisogno di una vita migliore, devi essere bambini che sono stati nati proprio qua in Italia. Anche in Italia pure devi dare le nostre associazioni in mano per aiutarsi, per crescere questi bambini. Ecco, la vostra associazione a proposito di bambini, si occupa anche attraverso il progetto di minori non accompagnati arrivati qua in Italia. E poi spesso è la criminalità, una volta che questi minori purtroppo spesso si riescono a dare alla macchia, ad approfittare. Ma se dovessimo parlare di numeri? Di numeri di minori? Qui a Palermo, come sappiamo, i numeri dei minori stranieri non accompagnati sono diminuiti tantissimo negli ultimi anni. ma tra il 2014 e il 2017 abbiamo avuto tantissimi minori stranieri non accompagnati e Palermo e Provincia è stata appunto una delle province più interessate da questo fenomeno. Diciamo che noi ci rapportiamo con i minori stranieri non accompagnati grazie ad altri progetti che portiamo avanti ma nel caso del progetto Mano nella Mano sopportiamo anche le madri, le donne che partecipano al progetto grazie a un servizio di child care offerto appunto dalle donne di Benin City quindi permettendo a queste donne di partecipare alle attività che organizziamo anche con i loro figli quindi loro partecipano alle attività e hanno uno spazio dove lasciare i propri figli con delle donne che si prendono cura dei bambini durante le attività. Ecco, lei poc'anzi mi ha detto che nel corso degli anni la sua associazione è riuscita a salvare, a liberare 60 donne ma qual è la difficoltà maggiore che lei ha percepito riguardo le donne che hanno voglia di denunciare oppure riguardo le donne che vogliono uscire da questo giro criminale che si chiama Tratta? Eh sì, mi pare da tre anni o quattro anni fa moltissime delle donne hanno coraggio per fare queste denunci e tutte le cose però dopo il 2018 che i nostri re di nostra Benin City che noi si chiamano Ioba di Benin City hanno annunciato il dito delle donne perché moltissime delle donne sono state giurate in Nigeria prima che lasciassi Nigeria per arrivarsi qua però quando il nostro re ha a declarare che tutte le donne devono essere liberi loro hanno di più coraggio è venuto da noi come l'associazione per uscire proprio dalla Tratta alcuni di loro hanno detto non voglio fare denunce perché io sono libera sono libera, le cose che mi vogliono ora è per migliorare la mia vita Ecco, ma qual è la paura delle donne a denunciare secondo lei? La paura delle donne è proprio che le donne hanno fatto il giuramento hanno giurato in Nigeria cioè hanno giurato in Nigeria di non svincolarsi da questo giro criminale una volta qua in Italia quindi hanno paura per le loro famiglie che sono rimaste là Sì, proprio questi pure questa è la prima cosa che hanno paura delle loro famiglie anche paura dei ritui di voodoo perché come noi in Africa la credenza nostra è il ritui di voodoo perché noi crediamo proprio le cose antiche dei nostri genitori le donne credono di questo con questo che moltissime delle donne ha paura per fare le denunci ecco, la mafia nigeriana qua a Palermo trova uno dei suoi capisaldi rispetto alle altre città d'Italia Palermo e Torino sono le due città con più presenza di mafia nigeriana secondo me io delle cose proprio queste io non gestisco quelle cose ho le cose che gestire proprio io e le cose delle donne perché io sono a fianco delle donne come vittima di tratta come era pure io è questo che fai io ecco, lei invece se dovessimo parlare di lei come ha trovato il coraggio di denunciare? io ho coraggio per fare tutte le cose che ho fatto io perché ho visto che le donne noi non hanno le voci in Nigeria qua siamo in Europa che c'è leggi perché in Nigeria le leggi non esistono qua abbiamo leggi con questo che le coragge deve esserci pure per le donne quindi lei si è sentita sufficientemente tutelata dallo Stato italiano una volta che ha denunciato si è sentita protetta sì, è questo che io ho detto qua abbiamo le leggi non è come il nostro paese in Nigeria che non hanno leggi ecco, invece tornando al progetto Mano nella mano abbiamo parlato poco anzi prima di iniziare la trasmissione che spesso qua in Sud Italia tutto è in mano ai volontari mancano poi realmente i fondi per sviluppare i progetti Sì, è vero molto spesso ci ritroviamo a lottare per avere dei finanziamenti per portare avanti dei progetti così importanti diciamo che il CHI a livello nazionale lavora in maniera importante anche con la raccolta fondi e questo piccolo progetto siamo riusciti ad avviarlo grazie alla Johnson & Johnson che ci ha finanziato appunto questo progetto pilota speriamo nel tempo che questo progetto raccolga altri finanziamenti per poter portare avanti delle attività che possano coinvolgere delle figure professionali perché è importante avere delle figure professionali preparate all'interno del progetto per poter poi lavorare con queste donne molto spesso il volontariato è fatto di persone che magari non sono preparate o che comunque non possono dedicarsi al 100% alle attività del progetto e quindi sarebbe importante tenere in considerazione che il Sud Italia con le necessità che ha ha la necessità anche di ricevere dei finanziamenti non soltanto in base alle linee di finanziamento che spesso vengono definite a livello regionale ma anche pensando ai bisogni attraverso una lettura concreta dei territori Ecco, Palermo è una città che si è dimostrata nel tempo particolarmente sensibile a queste esigenze e soprattutto ai migranti e vicino ai migranti che sono arrivati via via qua in città c'è da dire che manca proprio diciamo il supporto economico perché basare tutto su quello che possono offrire i volontari poi diventa un limite perché ovviamente il denaro senza denaro il progetto non può prendere corpo Assolutamente soprattutto i servizi sono molto spesso carenti a livello territoriale quindi le associazioni del terzo settore si sforzano molto spesso di offrire servizi di qualità alle persone in difficoltà non soltanto alle persone migranti in generale il Ciai si occupa anche di povertà educativa a livello territoriale e mettiamo in campo comunque delle figure professionali che hanno dei costi quindi sarebbe importante riconoscere il valore e anche il lavoro le organizzazioni del terzo settore che negli ultimi anni si sono veramente sostituite al welfare locale Ecco la sua associazione non si occupa soltanto di tratta si occupa anche di supportare attraverso aiuti alimentari le famiglie disagiate che vivono qua a Palermo e poc'anzi lei ha lamentato la mancanza di una sede che sarebbe diciamo sicuramente una cosa più utile e più immediata da raggiungere a coloro che hanno diciamo necessità di contattarvi e di venire diciamo a prendere in questo caso generi alimentari dalla vostra per dalla vostra associazione Sì la mancanza di nostra sede è la cosa che noi da più di quattro anni che noi chiedere le autorità è proprio il comune di Palermo che deve aiutare a noi per avere le sedie dove le donne possono avvicinarsi chiedere le cose capiamo dividere le nostre attività anche capire di più delle donne non può non soltanto aiutare le donne per uscire poi devi lasciare le donne sulla strada è meglio che le donne devono essere avvicinare sempre capire cosa hanno bisogno le loro idee cosa vogliono fare per la loro vita questo è molto importante però quando noi non abbiamo le sedie dove incontriamo è molto difficile l'avevate avuta per un certo periodo di tempo abbiamo a molte vergine che noi abbiamo usato per alcuni anni però è sempre un spazio non adatto non adatto è un spazio che non è nostro proprio perché ogni volta girare troppo tutte le città alcune volte siamo in un altro locale siamo in un altro locale le donne pure sono confuse non hanno capito proprio io devo usare le voci vocali proprio per spiegare su whatsapp ecco torniamo sempre a un argomento dibattuto più volte nel corso del tempo che in questi casi si potrebbe affidare a un'associazione meritevole una situazione diciamo reale e presente sul territorio anche un bene confiscato dalla mafia che troppo spesso viene destinato a volte a rimanere chiuso mettiamola così non continuiamo ma si preferisce lasciarli chiusi piuttosto che affidarle ad associazioni meritevoli e presenti sul territorio invece torniamo a Palermo quale sarebbe diciamo il vostro proposito e soprattutto quali sono le esigenze dei volontari a Palermo cosa manca in questa città perché abbiamo parlato di ciò che c'è ma cosa si potrebbe fare di più a parte diciamo gli aiuti economici da parte dello Stato che domanda Palermo è una città particolarmente sensibile il palermitano sicuramente non è colui che si tira indietro davanti a una difficoltà davanti a dare anche aiuto al prossimo diciamo questo l'abbiamo visto come dimostrazione concreta Palermo è sicuramente una città generosa e ha avuto sicuramente degli anni in cui si è dedicata anima e corpo a prendersi cura di determinate problematiche sociali certamente gli ultimi anni non hanno facilitato il lavoro del terzo settore sociale a Palermo perché sono stati anni difficili se dovessi dire il covid sicuramente è stato un periodo buio per il mondo esatto se dovessi dire una cosa che manca a Palermo sono servizi specializzati adeguati alla nuova società nel senso che la società galoppa verso un mondo che è ovviamente misto con una diversità importante e ci ritroviamo ad avere un ufficio anagrafe molto spesso non preparato ad accogliere delle persone di altra origine che parlano altre lingue e che hanno bisogno appunto di accedere come diceva lei Massimo a servizi in questo caso diciamo viene fuori il ruolo la figura del volontario che usiamo tra virgolette con molta attenzione questo termine ma è costretto ad accompagnare diciamo la persona che in quell'attimo ha bisogno di aver erogato un servizio da parte del comune presso la sede dell'ufficio per fare da traduttore e così via molto spesso queste persone si ritrovano a ricorrere ad associazioni di volontari che sono presenti sul territorio e che accompagnano le persone di origine straniera all'anagrafe o dal medico o qualsiasi altro servizio dove se non si parla la lingua o comunque si è in una fase iniziale del percorso di inclusione è molto difficile approcciarsi a un servizio dove nessuno è in grado di parlare un'altra lingua ecco nel comunicato che ho letto brevemente che mi ha fornito la mia amica e collega Alessia Rotolo si parla e che ringrazio anche per avervi invitato qua in trasmissione qua con noi per spiegarci di più su questo fenomeno criminale si parla di donne che possono diventare fantasmi cioè non sufficientemente che non riescono davvero a interfacciarsi con la società che li circonda perché spesso rimangono chiusi a casa spesso non hanno l'opportunità neanche appunto come lei ha sottolineato di uscire per chiedere anche un semplice certificato esattamente si tratta di donne che molto spesso rimangono molto indietro prima di tutto perché non conoscono quali sono i servizi sul territorio e infatti noi abbiamo attivato un corso di lingua italiana di alfabetizzazione per persone di lingua straniera proprio perché pensiamo che la lingua sia il primo passo verso la libertà e verso l'apertura verso un'altra società ma anche delle formazioni che possano creare una rete formazione alla genitorialità formazione su salute riproduttiva e sessuale e abbiamo attivato anche uno sportello di orientamento al lavoro perché comunque il lavoro è un'altra delle chiavi per poter essere partecipi nella società in cui si vive questo perché pensiamo che uscire dalle retrovie sia molto importante anche come diceva Osas perché crescere i propri figli e farlo accompagnato appunto prese per mano è sicuramente molto importante ecco invece se dovessimo fare un appello rivolto dalla sua associazione ai palermitani qual è di cosa avete bisogno praticamente oltre che della sede l'abbiamo fatto presente qualcosa di più semplice è la cosa che bisogna di più noi come l'associazione per ragazzi per fare un rete perché noi siamo pronti per fare rete con tutti i palermitani a tutte le associazioni del settore quale a Palermo siamo pronti per aiutarsi proprio queste donne perché le donne sono liberi però liberi per trovare il futuro liberi per trovare le loro vite anche le vite di questi bambini che stati nati proprio qua che in futuro diventano italiani loro già lo sono italiani a tutti gli effetti dico il palermitano penso che questo lo riconosca ampiamente o Palermo è una città sensibile riguardo questo o no eh sì eh sì è anche molto importante che le bambine nostre devono essere circolari insieme con bambini di altri ma questo succede già io almeno penso che è innegabile in qualche modo sia più rivolto al fatto che venga riconosciuto formalmente questa eh essere italiani perché poi nel futuro comunque questi bambini e queste bambine dovranno eh comunque affrontare delle problematiche che eh se eh certo perché purtroppo ricordiamo che fino a 18 anni non si può diventare cittadino italiano e comunque questo non è diciamo un non avviene automaticamente eh ma addirittura può essere anche può esserci anche il divieto dopo la richiesta eh di cittadinanza senza eh alcuna motivazione senza dover fornire alcuna motivazione se non ricordo male il prefetto che che ha l'ultima parola su questo se non almeno comunque così dovrebbe essere diciamo non si diventa cittadini italiani automaticamente non nascendo in Italia sicuramente e questa penso che ormai come lei ha sottolineato dovrebbe essere una consuetudine una realtà eh più che provata perché siamo ormai la terza generazione di di italiani nati in Italia provenienti dall'Africa o non so da tanti altri paesi esattamente e allora io vi ringrazio per aver partecipato a luci sulla città ringrazio Giulia Di Carlo coordinatrice della Ciai Palermo e ringrazio Osas Begon presidente dell'associazione Donne di Bene in City e grazie ai nostri telespettatori per averci seguito e a un nuovo appuntamento a luci sulla città luci sulla città è offerto da spada immobiliare compravendite affitti e permute sita a Palermo in via Sant'Oliva 16 telefono 091 612 72 22 impresa edile geometra Arnaldo Giambertone dal 1984 qualità e cortesia al vostro servizio costruzioni e ristrutturazioni edili manutenzione stabili condominali rifacimento prospetti bagni e cucine l'impresa Giambertone vanta una notevole esperienza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni edili avvalendosi di personale altamente specializzato prezzi competitivi con preventivi e consulenze gratuite per l'ottenimento del super bonus 110% impresa edile geometra Arnaldo Giambertone ci trovi a Palermo in via Saline 5 telefono 091 50 75 369 impresa Giambertone la scelta giusta per ristrutturare casa